questa è un po' è più salsa però questa è già più salsa vedi tipo voi prendete voi prendete la vostra tipa è una certa regà e poi va è finita la serata però questa non la metterei questa non la metterei ragazzi perché la musica salsa non è proprio reggaeton no 3-0 3-0 L'avete visto dove è andata? Ah eccola Minchia ha fatto il 360